La Lega non va verso il sì alla riforma delle pensioni, anche se non dice completamente no. Draghi, con parole chiare, si è espresso per un superamento di quota 100. I paletti sono però fissati. I soldi stanziati sono quelli scritti nel documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles e il Premier non sembra intenzionato a fare un passo indietro. Il Partito Democratico è favorevole ad un superamento delle quote e punta ad ampliare l'APE ad altre categorie di lavori gravosi insieme al rinnovo di opzione donna. La trattativa in corso è tesa ad evitare un ritorno brusco a 67 anni di età per andare in pensione, il cosiddetto scalone. La proposta del tesoro è incentrata su quota 102-104, due finestre volontarie che i lavoratori potrebbero utilizzare per andare in pensione rispettivamente con 64 e 66 anni di età anagrafica e 38 di contributi. Non è esclusa, per dare maggiore gradualità al provvedimento, quota 103 con durata sino al 2024, per chi somma 65 anni e 38 di contributi. In settimana Draghi incontra i sindacati già pronti a mobilitarsi contro quello che ritengono un ritorno brusco alla Fornero. Giovedì in Consiglio dei Ministri l'approvazione della manovra. Il sistema delle quote non soddisfa Confindustria. Noi siamo fortemente contrarie a quota 100, 102 e 104, siamo contrari perché guardiamo i numeri dei imprenditori, i numeri dicono che non ha ottenuto l'effetto che ci aspettavamo, cioè ricordo che c'era stato detto che per ognuno che andava in pensione venivano assunti tre, nella realtà l'effetto è di 0,4 come ha detto dell'Istat, quindi non abbiamo neanche l'effetto sostitutivo.